Buongiorno, io sono la mamma di Bianca Senta, io non ho capito Perché mia figlia iniziale aveva tutti dieci E adesso sei silenzito Me lo puoi spiegare? Ha preso quattro? Certo che me l'ha detto, mia figlia mi dice tutto Ha una studia abbastanza Ma lei lo sa che mia figlia è capodanno alle Maldive e stava chiusa nel suo bungalow a studiare E sa che mia figlia ogni giorno ha un'attività extrascolastica È la più brava del suo corso di pole dance Hai idea di cosa voglio dire conciliare studio e sport a quest'età? Mia figlia ha preso da me, è intelligente e bella Forse è per questo che lei l'ha presa di mira O forse invita il nostro titolo nobiliare Non deve essere facile per una come lei Avere in classe una rampolla della famiglia Acquaviva d'Aragona Come non è nella sua classe? Ma scusi, lei non è la profa borsese? No Oddio mi scusi Per scusami la invito a avere un tele nel nostro castello O poi fece un titolo nobiliare Baronessale va bene? Ha ragione, meglio contessa Arrivederci, scusi ancora